Buongiorno! Stare a centennale del brand e ovviamente fascine ed eleganza inconfondibili. Di quella macchina di cui parlavamo, esattamente. Buongiorno! Unire professionalità e gentilezza per far sentire il cliente a casa. Buonasera! Li impenso su pori nei loro occhi quando entrano nei nostri showroom. Trasmettere a tutti i clienti i nostri valori. Ciao Edoa! Ciao Ire! Dimmi tutto! Sì, è arrivato il tuo cliente per la consegna delle ore 14.30. Va benissimo! Accompagnalo pure in spazio consegna, 5 minuti e sono da te. Ok, perfetta dopo. Ciao Edo, scusami! Ciao Paola! È bisogno? È arrivato il tuo cliente delle 15 per i QC. Ma come? Di già? È un po' in anticipo, sì. Va bene, io sto consigliando adesso un GLE a un mio cliente. Tempo di cimuti e sono subito da te. Se vuoi lo accompagno io a vedere l'auto intanto. Va bene, grazie mille. Così il cliente non aspetta. Non ti preoccupare, recupero le chiavi e ci vediamo lì. Ti ringrazio, a dopo! Ciao Paola!